Buonasera, io intervengo dopo tante cose importanti dette e intervengo con un aglio un po' diverso se mi permettete perché prima di descrivere quello che vorrei descrivervi che è un'iniziativa molto importante che ricade nel campo della protezione dei dati, vorrei puntualizzare un taglio di cose, il campo di gioco nel quale noi tutti operiamo è un campo di gioco che ha delle regole che cambiano, la nuova regola sarà appunto quella di cui voi state discutendo e le regole nascono perché o devono far fronte a situazioni regresse, oppure subentra in un secondo momento per prevedere il futuro. Ora il campo di gioco che è quello del regolamento europeo si occupa di una cosa, i dati e noi non dobbiamo dimenticare che tutto quello di cui parliamo, cioè la compliance, lo temperamento a delle regole eccetera eccetera, non deve distrarci dal pallone, il pallone sono i dati, i dati, i dati stanno cambiando il modello di business. Noi avevamo prima un mondo il cui modello di business, posto che il mondo sia un'azienda, aveva un modello di business basato sul petrolio, oggi il modello di business è cambiato, oggi il modello di business si basa sui dati, naturalmente come nel petrolio chi fa soldi non è chi ha il petrolio ma chi ha le raffinerie, tant'è che se cambia il prezzo del barile, 40 o 100 dollari, voi pagate sempre più o meno alla pompa lo stesso importo, quindi è il raffinatore che fa grande business e sui dati è la stessa identica cosa. Certo che è il petrolio di questo secolo, ma chi è che fa i quattrini su questa roba? Il supermercato che mi prende i dati per la carta fedeltà per sapere quanta carta igienica consumo o se preferisco una pasta piuttosto che un'altra, se sono gluten free oppure no? Sì, in scala anche quello, ma la vera posta in gioco è una posta in gioco globale come lo era per il petrolio, le sette sorelle lottavano per il controllo sul mondo e le guerre si sono fatte per questo, per territori, per materie prime, per sbocco al mare e sui dati noi avremo la stessa identica dinamica. La differenza è che a porre in essere questo meccanismo non sono stati sovrani, come accadeva in passato per le guerre, ma sono delle corporations e il rischio non è il supermercato che mi prende i dati della carta fedeltà, anche se poi il supermercato non è il groghiere di cui conosco il cognato la figlia, a me in genere è una catena mondiale, è nemico diciamo, lo stato nemico che mi minaccia è a casa nostra, è Facebook, è Google, è IBM, è Microsoft. Questa è la posta in gioco di cui voi state parlando e questo deve essere chiaro, non pensate che la partita si giochi sul fatto che voi avete messo quel bollino in più, in meno, avete messo quello che ha il titoletto in più o il titoletto in meno, quindi siete sanzionabili, perché il mestiere del garante non è quello di mettere le multe, quando si arriva ad una multa hanno perso tutti, sia chi multa che chi viene multato, tant'è che un'autorità regolatoria educante, intelligente, previgente, si mette a disposizione, come fa anche il garante della privacy e dice alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, c'è qualche problema, chiedetemi il parere prima, vi dico io come fare per non sbagliare. E quelle multe da 4% del fatturato, 20 milioni sul fatturato di quota massima, si fanno non per essere cattivi ed esercitando un potere coercitivo, ma si scrive per dire la multe è talmente alta che non bisogna neanche arrivarci, perché se ci si arriva è troppo tardi. E allora, se questo è il campo di gioco e se quello è l'arbitro, facciamo due considerazioni, una per l'uno e una per l'altra. I dati, attenzione, noi tutti siamo debitori verso gli Stati Uniti, perché siamo debitori per la democrazia, perché ci hanno salvato dal nazifascismo, solo che a quell'epoca gli americani pagavano per controllarci, col piano Marshall. Adesso noi siamo controllati, ma paghiamo noi, paghiamo noi. Cioè questo deve essere chiaro, noi dobbiamo dirlo a noi stessi e ai nostri figli anche, perché se il modello di business del mondo sta cambiando, vuol dire che tutti quanti noi stiamo partecipando a un gioco di cui non ci rendiamo conto. E se la posta in gioco è il controllo del mondo, noi stiamo partecipando a un gioco molto complesso. Allora, se dai dati ci spostiamo al regolatore, all'arbitro, e qui dobbiamo fare un'altra considerazione, noi vogliamo un arbitro forte. Non vogliamo un arbitro a cui si dica arbitro cornuto e lo si insegue fino all'automobile riempiendolo di sberlefi. Per avere un arbitro forte, noi dobbiamo essere sicuri che chi esercita il controllo può esercitarlo e ha l'autorevolezza per farlo, oltre che il ruolo. Allora, facciamo parlare i numeri. Questo regolamento europeo nasce per difendere l'Europa, deve essere chiaro questo, deve essere chiarissimo. Non è un gioco giuridico, né un'esercitazione di diritto. Il regolamento nasce per arginare lo strapotere di multinazionali e per dare dignità all'Europa. Perché ciascuno Stato europeo, se da solo maneggia queste cose, è una nullità. Quindi l'Europa parla con una sola voce, con il GPDR, proprio per questa ragione. E allora, dato che deve contare questa cosa, e dato che noi dobbiamo considerare che il regolatore deve essere forte, noi non possiamo avere un garante privacy che ha 113 dipendenti. Faccio parlare soltanto i numeri. La Gcom ha 351 dipendenti, l'antitrasta ha 257 dipendenti, l'autorità dell'energia ha 190 dipendenti, l'autorità dei trasporti, che qualcuno di voi non sapeva neanche che esistesse, ha 150 dipendenti. Il garante della privacy ha 113 dipendenti. Non aggiungo altro. Vogliamo spostarci in Europa, tra tutti i garanti europei? La Germania che ha 82 milioni di abitanti, ha 593 dipendenti. La Gran Bretagna con 63 milioni di abitanti, 496 dipendenti. La Francia con 67 milioni di abitanti, 192 dipendenti. La Spagna con 46 milioni di abitanti, 166. L'Italia con 60 milioni, ne ha 113. Noi abbiamo 8 mila comuni in Italia. La legge prevede che qualunque comune possa fare un interpello al garante e dire, caro garante, in virtù della tua disponibilità a prevedere gli errori, mi dici se facendo questa cosa se io cado in errore oppure no. Qui il legislatore naturalmente ha dichiarato, cose ferre, tu mi devi dare un riscontro e sei obbligato a darmelo in 14 o 16 giorni, non ricordo bene, qui sono gli avvocati. Naturalmente il legislatore italiano quando fa le leggi non fa un'analisi di impatto per sapere se quelle regole sono percorribili. Negli Stati Uniti, che rimane comunque un grandissimo paese, qualunque legge venga fatta, si valuta prima qual è l'impatto sull'economia digitale. Naturalmente quando io dico per legge che un comune può avere una risposta in 14 giorni, se non 8 mila comuni, ma neanche il 10% 800, ma neanche il 5% 400, ma appena l'1%, 40, chiedessero degli interpelli, dovendo rispondere in 14 giorni, sabati e domenica comprese, e che cosa avviene? Che il garante si occupa solo degli interpelli dei comuni? Il meccanismo si inceppa. E allora se io voglio che un settore non funzioni, sapete cosa faccio? Se io voglio che la casa si fermi, io chiudo il gas così l'inverno muoiono di freddo, voglio che il bar non schiuda, gli chiudo l'acqua, così non si può usare il bagno, arriva l'uffilato e dici tu devi chiudere. Ci sono tanti modi indiretti per porre qualcosa, perché a quel punto quando il garante non risponde, cosa si dirà? Eh ma il garante non funziona, sì vabbè la privacy sarà pure una cosa importante, però ecco i soli d'Italia, poi facciamo le cose non sappiamo mantenere fede, cioè parte quello che nel barbiere di Siviglia era chiamato il venticello della calunnia, cioè un pochino per volta si delegittima una struttura con il meccanismo tipico che noi latini conosciamo molto bene, che è quello dell'isolamento, dell'operazione chirurgica intorno. Quando il cornuto scende in piazza e nessuno gli si avvicina, che comina sempre solo. Questo è il vero rischio a cui noi andiamo incontro. Allora come fare per interro, per inceppare un meccanismo del genere? Bisogna avere consapevolezza sul campo di gioco e bisogna avere consapevolezza sulla posta in gioco. Noi oggi abbiamo pubblicato su K4B una notizia banale, adesso non se ne vuole neanche più, Facebook e non mi ricordo chi, Facebook e Google, un miliardo di evasione fiscale dal 2013 al 2015, non se ne vuole più, no? Voi direte, anzi io mi sono rotto anche le scatole di queste cose, però se fossi una piccola azienda informatica italiana e pagò le tasse e pago anche tutti i contributi ai miei dipendenti. Ma mi rivolgerei all'antitrust e gli direi, assicura le regole del gioco, io non posso stare sul ring con un braccio legato dietro e il mio concorrente che è una multinazionale mi riempie di cazzotti in faccia perché vuol fare quello che gli pare. In base a che cosa? Al regolamento europeo? E dato che su queste cose, attenzione, l'Europa obbliga a fare le cose assieme, ma ci sono solo due argomenti su cui ciascuno Stato può fare quello che vuole, cioè rimane sovrano assoluto, ed è la difesa e il fisco. Sui confini e sulle tasse ogni paese decide come gli pare. Se non decide vuol dire che anche lì il venticello della calunnia è riuscito in qualche modo, per cui c'è qualcuno che dice facciamo le cose con tutta l'Europa, digitiamolo tutti assieme, se no non vale. E gioca sull'ignoranza, altrui naturalmente. Ecco questo sulla privacy non può e non deve accadere, con un invito a chiamare sempre meno privacy questo settore, perché se lo chiamiamo privacy ci fa pensare sempre al VIP nascosto dietro lo blu dello yacht. Ci viene in mente Belen, no, è la protezione dei dati, cioè il petrolio, è il vero petrolio, è quello, sono i dati nostri. Se le statistiche hanno un senso, qui ci sono probabilmente 60 persone, di queste 60 persone, statistiche alla mano, almeno 43-44 sono iscritte a Facebook, di queste 43-44 persone si può stabilire subito premendo un bottone, premendo un bottone, se siete ciascuno di voi, quante sono le percentuali di chi individualmente è sposato, separato, se ha dei conti corretti, dove ha fatto le vacanze, se gli piacciono i cani o i gatti, se ha dei figli, tutto, se ha un tatuaggio sulla schiena oppure no. Questo è la posta in gioco, cioè sapere tutto di tutti. questo va di fesso prima che le vacche escano fuori dal recinto. Detto questo vorrei spendere due parole su Prevas Italia perché considerate queste cose, noi abbiamo messo in piedi questa associazione con l'intento di spostare le montagne, per la buona regola che gli obiettivi più alti sono e più sono facili da raggiungere. Spostare le montagne cosa vuol dire? Non vogliamo intervenire sulle cose che vi ho appena detto. La settimana prossima, fra due settimane anzi per essere più precisi, faremo partire un appello firmato e promosso, mi auguro, dal più vasto schieramento di associazioni che si occupano di privacy e che sono presenti in Prevas Italia, al Presidente Mattarella, ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio, unendo questo nostro appello con le firme di alcune centinaia di docenti universitari di diritto e chiedendo che l'Italia dia una risposta degna del suo nome e che faccia degli uffici del garante, degli uffici efficienti, perché noi abbiamo bisogno di essere efficienti e vorremmo anche diventare un modello per il resto d'Europa, perché sappiamo di essere bravi in questa Europa. La seconda iniziativa che faremo e che annunceremo, mi fa piacere darne un piccolo straccio qui perché questa è una platea molto importante, CDT è un'organizzazione molto importante. Il 10 novembre a Cagliari, alla fondazione di Sardegna, fondazione Banco di Sardegna che è assieme a Cariplo, uno dei sostenitori di Prevas Italia e alla presenza di Soro faremo la presentazione della giornata italiana della privacy e della sicurezza che verrà celebrata a partire dal 2018, il 19 settembre 2018 nelle scuole italiane e apriremo ogni anno scolastico con una giornata della privacy e dei dati personali e della sicurezza e andremo avanti per nove mesi invitando i ragazzi alla maggior consapevolezza perché i dati personali non si danno in cambio di una pizza e di una Coca Cola. E naturalmente lì saranno molto importanti i professori, molto importanti i presidi e anche i bidelli che sono gli occhi e le orecchie di ogni corridoio delle scuole dove i vostri figli, i nostri figli, i nipoti stanno. Perché questa battaglia si gioca anche lì. Quindi se posso permettermi nel chiudere, nel ringraziarvi anche per la pazienza che avete avuto, tutto ciò che si fa, tutto ciò che voi professionisti fate per adempiere agli obblighi di legge è fondamentale, è fondamentale. Ma è molto importante non perdere di vista il campo di gioco. C'è una bellissima metafora che John Nysbit, che forse alcuni di voi ricorderanno era il mai non troppo citato autore di Megatrends 2000, solo che lo scrisse negli anni Ottanta ovviamente e prevedendo il futuro molto meglio di quanto non faccia Riffkin oggi. Nysbit raccontava di una circostanza molto, come dire, molto indicativa perché era l'anniversario dell'inizio dei lavori di Panama. Per cui c'erano tutti vanti a Panama, c'erano invitati, Clinton era presidente naturalmente, c'era Hillary, First Lady eccetera eccetera, partono con un elicottero dopo aver fatto un tragitto a piedi nel sottobosco che era lussureggiante, farfalline colorate, usbio, erba, animaletti che saltellavano. Poi diceva, tutti vanti presi da questa cosa, poi arrivamo all'elicottero e l'elicottero si alzò. Incominciamo ad alzarci sulla foresta, per volta la foresta viene sempre più ampia, finché non scorgemmo il mare e naturalmente tutto il tracciato del canale. E Nysbit dice, ecco, se io penso che il sottobosco era uguale, poteva essere anche in Brasile, poteva essere in Argentina, in Thailandia, ovvero il dettaglio di qualunque processo è importantissimo, però non deve far perdere di vista l'obiettivo nel quale si colloca. Quindi quando parliamo anche di adempimenti, cerchiamo di non dimenticare mai la vista dall'elicottero, cioè qual è il campo di gioco e dov'è e perché facciamo tutte quelle cose che sembrano costose, non piscali, servono a proteggere l'autonomia, indipendenza e sovranità nazionale, che sono le cose che servono anche alle aziende, al cittadino, alla pubblica amministrazione. Quindi questa è l'iniziativa che facciamo, noi siamo soltanto dei portatori d'acqua e quello che facciamo ha un senso se saremo capaci di portarci dietro il consenso, la disponibilità e anche la partecipazione di tutti. Quindi io vi ringrazio per la pazienza che avete avvitato, scusa se ho bussato di qualche minuto in più e vi ringrazio molto per l'ospitalità. Grazie.